Buonasera a tutti amici di Silla. Questa sera andiamo a vedere molto nel dettaglio un po' di luoghi comuni, miti da sfatare riguardanti la mobilità elettrica. È un argomento che personalmente mi sta a cuore, da sei anni lavoro in questo settore e devo dire che in questi sei anni non posso contare la quantità di volte che mi sono state sottoposte le stesse domande, gli stessi dubbi, la quantità di volte che ho ascoltato dal pubblico le stesse bufale e quindi che cercando di portare dell'informazione pulita, ho cercato di sbufalare. È incredibile che passati sei anni le domande sono rimaste le stesse, le risposte erano giuste sei anni fa, c'erano già, le risposte sono ancora giuste, ancora di più. Quindi stasera ho pensato di vestire i panni di quell'utente che generalmente mi pone questi dubbi e mi parla di queste bufale e visto che non posso sbufalarmi da solo ho chiesto a Paolo attivissimo il disinformatico di partecipare a questa live per fare un po' di chiarezza. Ecco, seguo Paolo da un sacco di tempo nel suo blog, Paolo è una persona di incredibile cultura scientifica e che cerca di fare divulgazione proprio contrastando tutte le bufale che si trovano sui più disparati settori e cerca di farlo in maniera semplice in modo tale che anche chi è un po' meno esperto di scienza possa comprendere e distinguere la verità da ciò che non lo è. Benvenuto Paolo, grazie di essere qui con noi. Grazie, buonasera. Ciao. Quindi se tu sei pronto io vado dritto sulla prima bufala da sbufalare. Volentieri, proviamo. Che penso sia quella che proprio ho sentito di più in assoluto, infatti abbiamo voluto metterla per prima. Dunque, le batterie, le batterie delle auto elettriche che ovviamente corrispondono a una parte importante del veicolo elettrico come tutti già sappiamo, inquinano tanto quando le si produce e non si possono riciclare. Quindi ci troveremo con le batterie da buttare via e avranno un enorme impatto sull'inquinamento. Allora, questo è vero fino a un certo punto, vale a dire, la prima parte è grossomodo corretta. In effetti, durante la produzione di una batteria per trazione di un'auto elettrica, si genera un notevole inquinamento. Però c'è anche da tenere presente che questo inquinamento poi viene recuperato durante l'utilizzo del veicolo. C'è una ricerca del 2020, pubblicata dal Paul Scherer Institute svizzero, che ha fatto un'indagine basandosi sulle auto del 2017, quindi in realtà non aggiornatissima, però i dati erano quelli, e è emerso un dato molto interessante. Già con le auto di alcuni anni fa, quindi del 2017, il punto di pareggio di inquinamento era intorno ai 50.000 km. Quindi sì, è vero, l'auto elettrica inquina di più quando la produce rispetto a un'auto tradizionale. Però poi questo inquinamento maggiore viene compensato dal fatto che durante l'utilizzo ha delle emissioni sostanzialmente zero. La cosa interessante è che man mano che la tecnologia galoppa, e sai benissimo che in questo settore c'è una corsa quasi veloce come quella nel settore informatico, il tempo di recupero, quindi il punto di pareggio, diventa sempre più vicino. Un'altra ricerca pubblicata recentemente indica che in molti casi già dopo 30.000 km si arriva al pareggio e poi è tutto guadagno. Quindi sì, è giusto chiarire che c'è da fare un investimento di inquinamento iniziale per poi ottenere un maggiore risparmio e una migliore qualità dell'aria negli anni successivi. E c'è anche un piccolo ingrediente in tutta questa storia, perché è facile, come dicevi tu in apertura, trovarsi con dei miti che tornano e si ripetono nel corso del tempo. Quello che però bisogna tenere presente è che molto spesso nel frattempo le situazioni sono cambiate, cioè quello che poteva essere vero sei anni fa, adesso magari non le più. E faccio un esempio concreto. La fonte principale dell'inquinamento nella produzione di un'auto elettrica è la fabbrica che la produce, il che significa che se l'auto viene fabbricata in una fabbrica che ha un impatto ecologico molto basso perché è alimentata con fonti rinnovabili, allora già abbiamo un crollo rispetto alle auto tradizionali. Quindi come sempre la realtà è molto complicata, non basta un sì o un no, però andando a prendere i dati si riesce a capire esattamente come stanno le cose. Alla fine, in ogni caso, comunque già adesso, dopo alcune decine di migliaia di chilometri, qualunque veicolo elettrico, anche quello fabbricato nelle condizioni peggiori, ci dà una qualità migliore dell'aria che respiriamo. Beh, questo quindi mi dici anche che non solo funziona in questo modo, ma è anche un parametro che va migliorando man mano che, immagino, migliora l'efficienza, la qualità nei processi produttivi della fabbricazione delle batterie stesse. Esatto, infatti questo è un fenomeno che si osserva a velocità vertiginose nel settore dell'auto elettrica, perché i processi di produzione sono partiti, come dire, in maniera pioneristica negli anni scorsi, facendo dei grandi investimenti. Adesso si comincia a essere nella fase dell'ingegnerizzazione, quindi sappiamo come fare un'auto elettrica, adesso si tratta di farle in maniera sempre più efficace, sempre più efficiente e quindi mettere in atto tutte quelle finezze di produzione che fanno la differenza. E stiamo facendo dei grossi progressi. Tutte le case automobilistiche oggi hanno a catalogo almeno un po' di veicolo elettrico, sono praticamente pochissime quelle che non ce l'hanno a catalogo o che non lo stanno per introdurre, e questo ci dà un'idea di come ci sia ormai un interesse molto forte a livello commerciale, anche a livello di immagine, perché l'auto elettrica è, diciamolo, un prodotto che crea un'aura positiva per tutta la marca, per cui a volte ci sono queste operazioni un po' cosmetiche di dire, beh, mettiamo a catalogo anche un'auto elettrica, però intanto vendiamo ancora macchinoni che vanno con altri carburanti, con altre forme di energia. Però la cosa interessante è vedere proprio questa velocità. Già abbiamo un'auto elettrica per definizione in partenza è molto più efficiente nell'uso dell'energia. L'energia che viene buttata via in un motore termico tradizionale è enorme, infatti se lasciamo un'auto termica parcheggiata si chiama termica per una ragione ben precisa perché butta via gran parte dell'energia che c'è nel carburante sotto forma di calore, quindi il motore si scalda, mentre un'auto elettrica è già efficiente in partenza. Siamo nella fase dell'ottimizzazione e dell'ingegnerizzazione, questo ci apre nei prossimi anni degli scenari estremamente interessanti. Ne vedremo delle belle. Vedremo sicuramente anche un sacco di modelli diversi anche da quelle case che oggi ne hanno uno solo o probabilmente non vedremo più quelle case se non si muovono ad adeguarsi a questo nuovo tipo di mobilità. Quindi le batterie inquinano, ma inquinano in una maniera più sostenibile a tendere rispetto all'endotermico e assolutamente sono riciclabili. Per questo non c'è ombra di dubbio. Ecco, sul punto del riciclaggio, anche qui vale la pena di fermarsi un attimo a smontare un mito molto diffuso, perché molti pensano a fine vita dell'automobile la batteria è da buttare, la porto in discarica e lì giace per sempre. In realtà le cose stanno in maniera molto diversa. Stiamo pensando un po' a benzina quando facciamo questi ragionamenti, è comprensibile. Siamo abituati da decenni a pensare alle automobili tradizionali. Nel caso della batteria di un'auto elettrica, la batteria ha una seconda vita, quindi quando per motivi di chimica non è più in grado di erogare grandi picchi di potenza come quelli che servono per muovere un'automobile, è comunque ancora utilizzabile in altre applicazioni, le cosiddette applicazioni statiche. Per esempio c'è in Olanda lo stadio, dedicato al grande calciatore Cruyff, che ha un gruppo di continuità fatto con le vecchie batterie delle automobili elettriche. Quindi ci sono delle seconde vite che si possono introdurre, per esempio anche nelle case le batterie provenienti dalle auto elettriche possono essere utilizzate come gruppi di continuità o come gruppi di accumulo per l'energia elettrica. Poi alla fine, quindi dopo questa seconda vita, già la prima è lunga, stiamo parlando di mediamente 200.000 km, poi altri anni di vita in applicazioni statiche, finalmente alla fine si arriva al recupero dei materiali. E adesso sono uscite già diverse iniziative, c'è Volkswagen, giusto per fare un nome piccolino, c'è la svedese Northvolt, che stanno tutte producendo processi di recupero di tutto il materiale. C'è la tedesca Dusenfeld, per esempio, che ha un processo che recupera circa il 90% dei materiali presenti all'interno di una batteria. Quindi il riciclo oggi è già una realtà per ora ancora un po' costosa, ancora da affinare, come anche del resto della produzione dell'auto elettrica, però non è una soluzione che manca completamente, anzi abbiamo già delle ottime opportunità. Sì, forse una parte di questo retaggio, Paolo, incorreggimi se sbaglio, viene anche da tecnologie forse più vetuste rispetto alle batterie agli ioni di litio. Ricordo che in tutte quelle che sono le batterie al piombo, la riciclabilità e lo smaltimento sono sicuramente meno efficienti rispetto alle ioni di litio. Esatto, infatti un mito molto diffuso e un errore anche qui molto comprensibile è che molti quando pensano alla batteria dell'automobile elettrica pensano alla classica batteria 12 volte che abbiamo tutti nelle automobili, ma è una tecnologia completamente diversa. In realtà non è una sola, ci sono diversi tipi di batteria con efficienze e caratteristiche differenti, con composizioni chimiche differenti, però questo ci dà la possibilità di correggere quest'idea, questo mito sbagliato e capire che in realtà quello che abbiamo nelle nostre automobili elettriche è una tecnologia completamente diversa da quella molto antica della batteria d'avviamento del motore tradizionale a pistone. Beh, guarda, con questa risposta mi hai dato proprio l'A per la seconda bufala da sbufalare. L'auto elettrica è pericolosa perché le batterie esplodono, questo sicuramente è sentita è risentita trilioni di volte. Sì, sì, infatti, è anche questo mito assolutamente comprensibile. Allora, può capitare che una persona per esperienza si sia imbattuta nella classica batteria dell'automobile tradizionale che si gonfia, comincia a sgasare, buttare cose fuori e diventa un pericolo di incendio. E mi è capitato recentemente, proprio a casa mia, ne abbiamo un garage condominiale, l'automobile di uno dei miei condomini ha cominciato a fumare, ma non era una di quelle elettriche, era un'automobile tradizionale che aveva la batteria che purtroppo era arrivata a fine vita, batterie tradizionali. Per cui è normale che le persone dicono, beh, se la batteria piccola di un'automobile tradizionale fa queste cose, figuriamoci la batteria grande di un'automobile elettrica. In realtà sono tecnologie completamente diverse. Innanzitutto, la batteria tradizionale, nella batteria di un'automobile elettrica, oggi ha un sistema di gestione della temperatura che è estremamente complesso e sofisticato, quindi viene sempre mantenuta nella temperatura ottimale, c'è una centralina che la controlla e qui è importante distinguere anche da un'altra tecnologia che molti cominciano a conoscere bene, quella dei monopattini elettrici o delle bici elettriche. La batteria delle bici elettriche è priva di un sistema di gestione della temperatura sofisticato come quello che c'è su un'automobile e quindi ha in effetti una possibilità di esplosione, non so se è il caso di chiama, ma comunque di incendio, di reazione chimica improvvisa che in realtà nelle auto tradizionali, nelle auto elettriche non c'è, non è assolutamente a questi livelli. Però è importante conoscere bene i rischi. Teniamo presente che comunque il problema dell'esplosione delle batterie ce l'abbiamo già nelle automobili tradizionali. Quello che vogliamo vedere è una tecnologia che riduca almeno questo rischio se non è possibile completamente eliminarlo. Sono all'orizzonte delle tecnologie molto interessanti nelle batterie a cosiddetto stato solido che dovrebbero completamente eliminare questo rischio di esplosione di incendi perché eliminano quelle parti che potrebbero effettivamente innescare questi fenomeni. Però per il momento abbiamo una situazione ancora in evoluzione. Quindi diciamo che anche se, come dicevi prima, ogni produttore, ogni grande gruppo che farà i suoi pacchi batterie per le sue auto elettriche userà delle chimiche, dei composti diversi l'uno dall'altro, però in generale possiamo affermare che le batterie delle auto elettriche non esplodono. Sì, allora, chiariamo bene questa cosa perché è uno dei miti che sento anch'io più spesso. L'incendio dell'automobile elettrica. Credo di aver portato, forse vi ho portato fra le immagini che vi ho mandato, c'è un'immagine che secondo me è molto eloquente dove c'è un incidente di due automobili. Una è elettrica e l'altra è a benzina. E questo incidente però mostra esattamente cosa c'è in un caso di questo tipo. Ossia abbiamo un'automobile elettrica che non prende fuoco e invece prende fuoco quella a carburante. I dati sono molto eloquenti in questo senso. Una ricerca della National Fire Protection Association americana di ormai 2018, quindi tre anni fa, ha indicato che la probabilità di subire un incendio in un'auto a benzina convenzionale è cinque volte maggiore rispetto a quella che si ha quando si è a bordo di un'auto elettrica. E poi ci sono anche alcune ricerche italiane che indicano che stiamo a livelli molto differenti rispetto all'auto tradizionale. Anzi, paradossalmente, siamo talmente abituati all'idea che un'auto normale, un'auto quindi a benzina, possa incendiarsi che quando qualcuno tira fuori questa obiezione dico come si chiama la tua polizza auto? Incendio e furto. In quale ordine ti dicono queste cose? Un incendio, due furto. Quindi qual è il rischio maggiore che un'assicurazione copre? L'incendio. Perché ti stai preoccupando dell'incendio di un'auto elettrica quando hai una polizza che nella tua auto tradizionale prevede come primo rischio proprio quello dell'incendio? Sono problemi di percezione. C'è anche chi un po' specula su queste cose. Aggiungo anche un altro dettaglio tecnico interessantissimo che è lo svolgimento di un incendio. L'incendio di un'auto tradizionale che si basa fondamentalmente sull'innesco prodotto dal carburante e poi dalla combustione del materiale di cui è fatto l'automobile, quindi gli interni del veicolo, è molto diversa come dinamica rispetto a quella di un'auto elettrica. L'incendio di un'auto tradizionale è molto rapido, soprattutto quando viene alimentato dai vapori della benzina e questo significa che il tempo per mettersi in salvo può essere molto breve. Nel caso dell'incendio della batteria di un'auto elettrica quando succede l'incendio è più graduale, quindi dà maggiori possibilità di mettersi in salvo, però è molto più difficile da spegnere. Vale a dire all'interno della batteria c'è una quantità di energia molto elevata che può rilasciarsi, genera calore, crea il cosiddetto thermal runaway, quindi un fenomeno, un processo chimico in progressione continua per cui la batteria dopo che è stato spento inizialmente l'incendio dagli idranti dei vigili del fuoco può riaccendersi e riprendere l'incendio. I vigili del fuoco devono essere quindi e sono quindi addestrati e formati a prendere questi veicoli, metterli in sicurezza. Per esempio l'automobile quando ormai è recuperabile viene calata dentro un'enorme vasca d'acqua, viene portata in un luogo sicuro messa nella vasca d'acqua fino a che l'acqua toglie il calore dalla batteria e quindi la si mette in sicurezza. Un incidente di questo genere è capitato proprio pochi giorni fa dalle mie parti, per fortuna non a me, e ha dimostrato esattamente come i vigili del fuoco sono ben addestrati a fare queste cose. La prima cosa da fare, un intervento dei vigili del fuoco è localizzare il punto di tranciamento dei cavi dell'alta tensione che ci sono nelle auto elettriche che sono ben indicati su ogni veicolo, a quel punto l'automobile viene, la batteria è isolata, se ci sono danneggiamenti alla batteria allora poi si prende il veicolo, se non è, non ha ancora preso fuoco lo si porta in un luogo sicuro. Se ha già un principio di incendio lo si spegne momentaneamente con gli idranti, dopodiché lo si porta in un luogo sicuro. E ho anche qui un cambiamento di paradigma, però sinceramente se mi chiedono se preferisco stare in un incendio che è difficile da spegnere, però si accende molto lentamente, oppure in un incendio che si spegne molto facilmente, quando però ci metti a tre secondi a partire, francamente preferisco quello lento ma difficile da spegnere, perché mi metto in salvo. Decisamente. Va Agusti. Decisamente. Beh, sempre rimanendo il tema del che cosa le batterie possono fare o non fare. Un'altra domanda che viene posta spessissimo, un altro dubbio che sento molto di frequente, è che le auto durino poco perché le batterie si rovinano molto velocemente a causa del processo di ricarica, quindi se carichi troppo spesso la macchina, se stacchi la carica quando la batteria non è piena o se la batteria va, le batterie si rovinano e la macchina elettrica non dura. Anche qui è interessante vedere come stiamo pensando alle tecnologie di qualche anno fa. È entrata nell'opinione pubblica questa idea delle batterie che c'erano una volta, le batterie nickel cadmio, chi se le ricorda sa bene cosa intendo, erano quelle batterie che dovevi caricare completamente e poi scaricare completamente, quindi c'era tutto un rito quasi religioso da fare per mantenerle vive un po' a lungo. Le vecchie telecamere portatili, i primi telefonini avevano queste batterie. Poi siamo passati alla tecnologia degli ioni di litio che non hanno quello che si chiama effetto memoria. Il risultato è che le batterie possono essere caricate e scaricate senza particolari problemi per un numero elevatissimo di cicli. Non c'è bisogno di fare sempre il pieno per poi scaricarla completamente, si possono fare anche cariche parziali, anzi si consiglia per mantenere la batteria il più possibile come longevità, di mantenere sempre la carica fra il 20 e l'80% della carica totale possibile. I dati ci indicano che, sempre la ricerca del Paul Sherry Institute che citavo prima, indicano che la vita media di una batteria moderna di un'auto elettrica è intorno ai 200.000 km, che direi che è paragonabile con quella di un motore tradizionale a scoppio. E si stima che si possano raggiungere abbastanza frequentemente anche i 350.000 km. Quindi è una vita di guida, cambi prima l'automobile probabilmente. Io, giusto per fare un esempio, ho una piccola auto elettrica, una Peugeot, una Peugeot-Yon, che ha appena compiuto 11 anni e va ancora con la sua batteria originale. Caspita, quindi sì, le strada ne fanno se si vuole. E sempre in tema di ricarica, che così ci allacciamo a un altro tema, ma se un domani tutta la mobilità è elettrica, la rete elettrica non avrà abbastanza energia per sostenere tutto questo incremento dei consumi, perché la nostra rete è mal strutturata, è piccola e non può sostenere questo carico enorme che arriva così. Anche questa è una domanda che sento spessissimo e la trovo assolutamente comprensibile e naturale. Anche questa è figlia un po' delle abitudini che abbiamo avuto negli anni scorsi. In particolare abbiamo sempre avuto questa sensazione di essere a corto di energia elettrica. In realtà la rete di distribuzione italiana, la rete di trasmissione è estremamente efficiente e capace. Enel stessa ha detto già che da alcuni anni tecnicamente c'è energia sufficiente e capacità di distribuzione sufficiente, perlomeno sulle grandi linee di distribuzione, per dare a tutti gli italiani, quindi i 37 milioni di automobili, tutte elettriche. Questo può sembrare incredibile, però c'è da chiarire che ci sono alcuni punti della rete elettrica che non sono ben serviti e questi dovranno essere chiaramente aggiornati e migliorati. Ma l'altro punto importante da chiarire è che in realtà non serve questa grandissima quantità di energia, perché la percorrenza media giornaliera di un automobilista in Italia è intorno ai 31 km, il che significa che servono pochi kilowattora ogni sera. Non è che devi fare il pieno tutte le sere, quindi dici mamma mia devo mettere 70 kilowattora dentro la batteria, non mi passa più, devo attaccare, devo avere una potenza disponibile enorme. Io per esempio ho un'auto elettrica, la carico quando mi serve a 3 kilowatt e non ho bisogno di potenze maggiori, mi basta quella carica lenta perché tanto sta ferma la maggior parte del tempo, la metti in garage, attacchi la spina e poi vai a dormire, vai al pranzo, lavori, esci, fai quello che vuoi e durante la notte pian piano si ricarica senza gravare troppo sul contatore. Oltretutto molte delle auto elettriche moderne hanno la possibilità di regolare, come sto facendo io in questo momento, dal telefono il livello di carica, quindi addirittura io posso prendere un'auto e dirle consuma un kilowatt e mezzo, meglio ancora se il wallbox consente di fare questa regolazione intelligente in automatico, quindi non c'è neanche bisogno di fare questa cura manuale del consumo. E quindi si può vivere abbastanza tranquillamente con le risorse elettriche che abbiamo adesso. C'è una previsione molto interessante pubblicata di recente da Terna che dice che intorno al 2030 il consumo delle auto elettriche sarà circa il 5% del totale dell'energia consumata in Italia. Quindi non stiamo parlando di soffocanti quantità di energie che ci servono per far andare le auto elettriche. Teniamo presente anche che il mercato comunque non diventerà elettrico domani mattina. Ci sarà un lungo periodo di transizione durante il quale ci sarà un mercato misto di auto elettriche occasionali qua e là e principalmente autotermiche. Poi man mano verranno introdotte sempre più auto elettriche e sempre meno autotermiche. Il risultato è che c'è tempo per ammodernare la rete e ciascuno può fare la propria parte. Io per esempio per mettere a posto il mio impianto elettrico ho chiamato un elettricista e gli ho fatto installare dei cavi che potessero reggere quei kilowatt continuativi senza causare problemi. E' stata un'esperienza molto interessante vedere come in realtà l'ammodernamento dei cavi non è particolarmente impegnativo per chi ha una casa e un posto auto. Certo. Ecco tu prima hai detto però che il chilometraggio medio è di 30-31 km al giorno. Io già qua sento il coro di ah ma a me non bastano, a me non bastano. E infatti con le auto elettriche resti a piedi spesso perché non ci sono colonnine di ricarica, non c'è un'infrastruttura che ti consenta di poterti spostare senza dover fare mille pianificazioni e quindi l'auto elettrica non è affidabile. Questa è l'altra bufala. Vabbè, allora in parte è giusto. E' una critica che io trovo in questo momento molto sensata anche in rapporto alla situazione negli altri paesi europei. In effetti in questo momento la rete di ricarica rapida italiana soffre di un grosso problema. Le colonnine ci sono, ce ne sono a dati di ottobre 2021, quindi un mese fa insomma, ci sono circa 25.000 punti di ricarica in tutta Italia. Sono mal distribuiti, quindi sono più a nord che al sud per esempio e soprattutto sono pochissimi sulle autostrade, che è il posto dove ti serve la carica rapida. Molte delle colonnine rapide sono in città o sono comunque fuori dall'autostrada, quindi per andare a fare tappa ricaricare devi uscire dall'autostrada, trovare la colonnina, caricare, rientrare in autostrada e quindi doppia coda di pedaggio, magari la spesa di pedaggio aumenta perché sono tappe differenti e via dicendo. Questa è una cosa che va riconosciuta, va messa in preventivo se si decide di acquistare un'auto elettrica ed è una cosa che per fortuna dovrebbe essere rimediata abbastanza presto perché si parla nei grandi piani di elettrificazione di avere colonnine rapide almeno ogni 50 chilometri e soprattutto presso gli autogrill o i distributori di benzina che stanno sulle autostrade. Io adesso per esempio quando viaggio, faccio viaggi lunghi con la mia auto elettrica devo uscire dall'autostrada salvo in due posti in Italia dove ci si può fermare a far la carica in autostrada quindi capisco il problema. Però aggiungo giusto una cosa, noi dobbiamo pensare meno al distributore di benzina e più al fatto che l'auto elettrica la carichiamo a casa, quindi l'auto elettrica è pensata per la carica domestica. Il che significa che è vero, io consumo, faccio 30 km al giorno di media però quella volta che mi serve di farne 300 cosa faccio? Nei giorni precedenti ho accumulato carica un po' alla volta durante ciascuna sera. Se ho bisogno alla carica rapida lo posso fare fermandomi alla colonnina rapida. Quindi da questo punto di vista ci vuole un pizzico di pianificazione in più rispetto agli altri paesi. Io per esempio vivo in Svizzera, vicino al confine italiano e so che quando devo fare un viaggio all'interno degli altri paesi posso partire tranquillamente perché tanto lungo la strada troverò sempre delle colonnine rapide che mi permetteranno di caricare. Per il resto in Italia in effetti ci sono delle zone dove si richiede un po' di pianificazione ma non si resta mai a piedi. Se ci si organizza un attimo c'è sempre la possibilità di ricaricare. Lentamente magari però ricaricare si può. Certamente. Eh ma non posso mica ricaricare l'auto elettrica a casa perché a casa ho solamente 3 kilowatt di potenza e non mi bastano per fare assolutamente nulla. Beh in realtà i 3 kilowatt di potenza se vengono gestiti bene o dall'utente o da per esempio un sistema smart domestico o la wallbox gestita dal software per esempio allora posso stare tranquillamente nei 3 kilowatt. Io spesso appunto carico a poca potenza giusto per curiosità per vedere di coccolare la batteria della mia piccola auto elettrica e perché la voglio far durare a 11 anni insomma comincia a avere un po' gli acciacchi dell'età e però sono sono acciacchi che puoi mantenere contenere tranquillamente perché la carichi delicatamente. Quindi magari la carico a un kilowatt e mezzo tanto non ho fretta e c'è tutta la notte davanti e quindi normalmente il problema non si pone però se ho capito bene io seguo più le cose dell'automobile che le questioni di ogni singolo paese mi sembra di aver capito che anche in Italia c'è una possibilità di chiedere l'aumento a 6 kilowatt del proprio contatore. Correggimi se sbaglio. No 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 hai perfettamente ragione è una sperimentazione che è stata avviata su tutto il territorio ancora a maggio e dà la possibilità agli utenti che hanno un allaccio normalissimo da 3 kilowatt da 4 e mezzo di chiedere al GSE al gestore del servizio elettrico l'aumento a 6 kilowatt questo avviene poi nelle fasce notturne durante la settimana e nei weekend e avviene senza nessun tipo di costo fisso aggiuntivo per l'utente quando fino all'altro giorno sappiamo che se si voleva avere più potenza in allaccio bisognava pagare un costo fisso per la pratica e poi che comunque la bolletta sarebbe stata più alta a causa degli oneri di sistema che sono sempre una componente fisso. Attualmente in Italia questo è possibile è una procedura molto semplice che si fa appunto sul sito del GSE e nel giro di poche settimane se non ci sono particolari motivi ostativi tecnici il cliente si ritrova con la possibilità di caricare a 6 kilowatt invece che 3 di notte e nei weekend. Deve avere installato un dispositivo compatibile, credo che il nostro sia stato uno dei primissimi, in modo tale che automaticamente viene riconosciuta la disponibilità di potenza differente e sfruttata per caricare il veicolo. Ecco aggiungerei anche che chi ha già il fotovoltaico sul tetto spesso si trova in una situazione abbastanza curiosa cioè genera più energia di quella che gli serve di giorno e quindi la vende la rete che magari gliela paga poco. Se si gliela paga? Tutto questo chiaramente richiede un po' di intelligenza del sistema domestico e a questo serve il software. Meno male che c'è il software perché se dovessimo andare a manina, attaccare, staccare cose sarebbe tutto troppo complicato e capirei benissimo la ritrosia rispetto al vado a far benzina e faccio prima. Invece con l'astuzia e l'ingegno del software si riesce a fare davvero tutto in maniera il più possibile automatica e a volte anche divertente perché io vedo, questa la dico come piccola chicca, ogni tanto vedo gli appassionati di fotovoltaico elettrico che si mettono a guardare il telefonino tutti contenti perché hanno l'iconcina che li premia dicendo guarda sto generando tanta corrente la sto mettendo in questo apparecchio poi la metterò in quello e poi così. Quindi c'è anche quella che alcuni settori del marketing chiamano la gamification cioè la giochificazione non so come chiamarlo in italiano per cui alla fine ti diverti a fare queste cose. L'importante è che sia un divertimento che produce poi dei risultati positivi per tutti noi perché se riduciamo le emissioni di riscaldamento di circolazione dei veicoli chiaramente respiriamo tutti aree più pulite anche chi non ha un'auto elettrica beneficia del fatto che c'è una riduzione dei gas di scarico per cui pian piano si può fare parecchio. però d'altronde va detto anche che l'auto elettrica non ha futuro perché il vero futuro della mobilità sostenibile è l'idrogeno. Allora a questa io risponderei un può darsi nel senso che sappiamo che la tecnologia dell'auto idrogeno cioè funziona il problema è produrre idrogeno. La produzione dell'idrogeno con i sistemi attuali è estremamente energivora cioè semplificando ci vogliono 5 volte l'energia elettrica per per esempio fare l'elettrolisi rispetto all'energia che poi mi trovo dentro l'idrogene che riesco a sfruttare dentro un'automobile a idrogeno. Quindi abbiamo un'inefficienza molto grande mentre l'energia elettrica che metto dentro un'automobile elettrica è sostanzialmente al di là delle perdite normali tecniche viene utilizzata praticamente tutta. Il che significa che se io decido di utilizzare l'energia elettrica per produrre l'idrogeno ho una grossa perdita in partenza. Questo potrebbe non essere un problema se per esempio si usa l'energia elettrica in eccedenza di qualche impianto oppure se vengono trovati processi di generazione dell'idrogeno che sono più efficienti. Tutto può succedere quindi da questo punto di vista la biologia la biochimica potrebbero riservarci delle sorprese estremamente interessanti. Al momento però l'auto idrogeno è fondamentalmente un sogno. Recentemente parlavo con un collega che si occupa per lavoro di mobilità e lui ha detto io ho provato l'auto idrogeno è bellissima silenziosissima funziona benissimo ha una grandissima autonomia il problema è che il distributore più vicino è a 250 chilometri quindi serve se vogliamo pensare a un futuro a idrogeno serve creare un'infrastruttura e questa ha dei costi enormi dobbiamo far arrivare presumo degli idrogenodotti perché non credo che nessuno voglia dei camion pieni di idrogeno che girano per casa per per strada per rifornire e quindi c'è un costo molto elevato c'è da distinguere anche fra tipi diversi nel senso che ci sono veicoli che fanno combustione dell'idrogeno ci sono anche poi le auto a cella combustibile che nonostante il nome in realtà fanno un processo chimico per cui generano energia elettrica partendo dall'idrogeno le auto a cella combustibile sono pulitissime le auto che invece bruciano idrogeno comunque sono inquinanti perché producono delle sostanze come il diossido di azoto che è uno degli inquinanti peggiori per la nostra atmosfera e la pianura padana purtroppo e forse fra le immagini ce n'è che vi ho mandato ce n'è c'è una che parla proprio di questo problema c'è il satellite copernicus per chi è interessato a queste cose che fa una mappatura continua dell'inquinamento della nostra atmosfera e purtroppo la pianura padana è una delle zone più inquinate a causa di non solo delle automobili ma del trasporto in generale e anche dei riscaldamenti e questo diossido di azoto è uno degli ingredienti fondamentali di questo inquinamento quindi bella l'idea dell'idrogeno probabilmente vedremo un futuro misto dove i grandi veicoli vengono caricate idrogeno perché sono quelli come gli autobus o i camion delle reti logistiche che si approvvigionano sempre presso lo stesso distributore fanno mille chilometri tornano a destinazione mentre per l'uso quotidiano di noi automobilisti che viaggiamo per diletto o per lavoro ma facciamo comunque viaggi locali probabilmente sarà più efficace la trazione elettrica per una questione di comodità arrivo attacco alla macchina la presa e sono a posto chi invece non ha la presa elettrica in casa potrebbe essere interessato un'auto idrogeno a patto di riuscire a trovare il distributore è un po l'uovo e la gallina che come si fa a partire con questo meccanismo se non ci sono distributori è difficile che nasca un mercato delle automobili a idrogeno mentre nel caso dell'auto elettrica i distributori ci sono già sono le prese elettriche che abbiamo in casa oltre al fatto che anche la fonte energetica non è così difficile da riprodurre sempre parlando di impatto quindi di inquinamento interessantissimo questa questa molecola non sapevo che l'idrogeno potesse potesse fare questo tipo di impatto un'altra obiezione che viene fatta molto spesso è che anche le auto elettriche inquinano a prescindere dal processo produttivo perché perché l'energia che viene usata per ricaricarle viene da fonti fossili sì infatti ecco per chi è interessato a sapere di più sul su quella sa questa questione dell'idrogeno che molti considerano pulita c'è un bel servizio si chiama hydrogen innovation report che è stato fatto dal politecnico di milano che spiega bene questo impatto ambientale derivante dalla combustione dell'idrogeno è anche questo un mito che è importante chiarire per evitare che poi si facciano investimenti nella direzione sbagliata però dicendo dicevi del della produzione dell'energia elettrica e allora in realtà quando si parla che so di centrali a carbone questa è la barzelletta che si fa di solito c'è anche il meme che gira su internet dove c'è l'automobilista elettrico tutto orgoglioso di non inquinare e poi si vede il filo della corrente elettrica che va verso una centrale a carbone inquinantissima puzzolentissima allora guardiamo i dati i memi sono divertenti però alla fine bisogna guardare la realtà nel 2020 il carbone in italia costituiva poco più del 6 per cento dell'elettricità utilizzata secondo i dati gse l'italia in una posizione molto vantaggiosa questo punto di vista perché ci sono altri paesi europei come la polonia che sono intorno al 70 per cento la germania 24 25 il regno unito è abbastanza messo ben messo intorno al 2 per cento però ecco la cosa interessante nel mercato italiano in particolare è che la situazione è cambiata tantissimo è stata dimezzata questa percentuale rispetto a dieci anni fa le centrali a carbone in italia sono in via di dismission c'è un progetto di smetterle completamente entro il 2025 quindi fra tre anni potremmo dire tranquillamente tre o quattro anni potremmo dire tranquillamente no l'auto elettrica non viene caricata col carbone vai tranquillo però da questo punto di vista possiamo stare decisamente tranquillo giusto per dare qualche numero sulla sulla effettiva composizione del mix energetico forniti da terna nel 2020 il 38 per cento dell'energia elettrica consumata arriva quindi già adesso già un anno fa i dati sono i più recenti sono questi già nel 2020 il 38 per cento dell'energia consumata in italia arrivava da fonte rinnovabili quindi siamo già messi abbastanza bene teniamo presente che un'auto elettrica è molto efficace nell'utilizzare quello che le viene dato e quindi rispetto a un'auto termica che ha tutta una filiera di trasporto bisogna il proprio il carburante bisogna raffinarlo bisogna estrarlo bisogna raffinarlo bisogna trasportarlo via nave attraverso un oleodotto in qualche maniera deve arrivare al distributore quindi poi c'è il camion che lo trasporta insomma se prendiamo in considerazione questa filiera alla fine anche partendo da energia sporca per così dire generata da una centrale sporca l'auto elettrica nel suo complesso inquina meno per cui siamo messi anche qui abbastanza bene però miglioriamo benissimo questa è proprio una curiosità che mi sembra talmente intuitiva è pericoloso caricare l'auto elettrica sotto la pioggia ah no 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 allora premessa che l'ho fatto diverse volte mi sono completamente inzaccherato perché questa è una piccola critica che vorrei fare ad alcuni installatori di colonnine mettete una tettoia giusto un metro quadro perché uno arriva lì e sta maneggiando comunque degli apparecchi elettrici magari alla tesserina a varie cose farlo sotto la pioggia scrosciante non è divertente beh io posso dire di aver caricato la mia piccolina elettrica a una colonina rapida quindi 50 kilowatt con i piedi dentro una pozzanghera e sono ancora qui forse un po fulminato mentalmente però sono ancora qui in generale battute a parte si può tranquillamente caricare un'auto elettrica anche mentre piove anche mentre nevica ovviamente bisogna avere attenzione a non bagnare i connettori i contatti dei connettori però sono fatti apposta in modo che sia estremamente difficile far arrivare acqua dove ci sono i contatti per cui possiamo stare abbastanza tranquilli non c'è una casistica significativa di persone rimaste folgorate durante la carica sotto la pioggia anzi se vi capita di andare su youtube può essere divertente vedere come alcuni conducenti imprudenti e spericolati prendono la propria auto elettrica la fanno andare nelle zone allagate quindi con l'acqua che arriva praticamente a livello del cruscotto e l'auto non va in cortocircuito ce la fa anche perché non si ingolfa non può ingolfarsi elettrica non ha bisogno di aspirazione dell'aria dall'esterno e quindi può funzionare anche parzialmente sommersa non fatelo non provateci a casa come si dice in questi casi però è una dimostrazione tecnica del fatto che in effetti il livello di isolamento elettrico delle auto elettriche è molto elevato tanto che è possibile immergerla senza avere particolari problemi e quello che fa si fa comunque ogni volta che si fa il collaudo di un'auto quando esce di fabbrica nissan ha proprio la vasca apposita nella quale passa l'automobile prima di uscire dalla fabbrica quindi questa è una bufara che possiamo completamente smontare dai sì sì ma dimmi è vero che siccome le auto elettriche sono molto silenziose non fanno rumore causeranno stragi di pedoni beh allora spero decisamente di no innanzitutto è vero sì le auto elettriche sono silenziose e questa è una buona cosa se consideriamo il rumore che c'è nelle case di chi vive in città derivanti dal traffico però a livello locale quindi quando c'è il pedone in effetti un'automobile completamente silenziosa potrebbe essere vista come un rischio soprattutto per le persone che hanno difficoltà con la vista e per esempio alcune associazioni di ciechi sono state coinvolte in un procedimento per trovare una soluzione se un'auto arriva completamente silenziosa è facile che una persona ipo vedente o non vedente possa essere coinvolta in maniera spiacevole la soluzione è avere dei generatori di rumore praticamente tutte le auto elettriche oggi messe vendute attualmente se ne comprate una nuova insomma adesso le trovate già attrezzate con un avas un dispositivo di emissione di suoni che fanno questi rumori un po elettronici cioè sembra di essere invasi dagli ufo rumori un po strani poi personalizzabili saranno probabilmente la nuova frontiera delle suonerie prima personalizzavamo le suonerie del telefono adesso personalizzeremo il rumore delle nostre automobili e con questo sistema si riesce comunque ad allertare il pedone a patto che però il pedone collabori perché io vedo molto spesso e lo so come utente di auto elettrica mi capita so di essere silenzioso e mi avvicino al pedone e questo non mi sente ma non perché l'automobile silenziosa ma perché ha le cuffie in testa quindi se fosse anche arrivato con una rombante fuori serie probabilmente non se ne sarebbe accorto allora ho una o due soluzioni ne ho portata una qui ho preso un dispositivo ad altissima tecnologia che si chiama campanello da bicicletta e l'ho montato in macchina per cui abbasso il finestrino faccio e quello si volta e dice ok non avevo visto ho anche la versione trombetta che però ovviamente questa la riservo solo per i casi più importanti però adesso battute a parte è importante capire che la rumorosità dell'automobile elettrica è paragonabile a quella dell'automobile convenzionale sopra i 35 km l'ora perché subentra il rumore di rotolamento dei primi degli pneumatici non è il rumore di un automobile non deriva soltanto dal motore ma deriva anche dal rumore dell'interazione fra la gomma e l'asfalto per cui anche in un caso di un'automobile tradizionale può esserci questo questo problema ti avvicini piano piano e non ti sente nessuno ma sopra i 35 km l'ora si sentono entrambe allo stesso modo beh mi vengono in mente le auto ibride che hanno motore termico e motore elettrico e i primi chilometri fino a 10 15 km orari vanno totalmente in elettrico però grossi problemi mi pare che non abbiamo avuto insomma si al fine basta chiedere ai tassisti i tassisti che hanno abbracciato subito le auto ibride ed elettriche per gli ovvi vantaggi economici sanno esattamente come è difficile convincere un pedone a spostarsi ma anche i loro colleghi che vanno a pistone hanno esattamente lo stesso problema il pedone come dire a volte è un po distratto cerchiamo di abituarci e collaborare a questa cosa basta sapere di essere silenziosi e tenerne conto benissimo allora procedo con l'ultima delle bufale che avevamo preparato noi e poi magari vediamo se c'è qualche domanda al nostro pubblico volentieri questa l'abbiamo lasciata per ultima anche perché è molto fresca leggevo dal corriere proprio la gabanelli ha fatto un pezzo su la quantità di posti di lavoro messi a rischio dall'avvento della mobilità elettrica credo che il pezzo parli addirittura di 60 mila posti di lavoro che andranno completamente persi nei prossimi anni in italia sì ho visto l'articolo si parla di un tempo piuttosto lungo quindi entro il 2035 quindi è comunque un tempo abbastanza significativo nel quale trovare una soluzione e molto spesso come in tanti altri casi nei quali arriva una tecnologia nuova che cambia il mercato del lavoro ci sono due possibilità una è sedersi lamentarsi e dire e adesso non ci sono più posti di lavoro perché nessuno vuole più le auto termiche e l'altra è bene tutti vogliono un'auto elettrica serviranno dei servizi dell'assistenza della manutenzione bisogna creare dei nuovi posti di lavoro per la manutenzione di queste automobili per l'assistenza per la personalizzazione pensiamo a tutto il mondo delle app per automobili che adesso è solo all'inizio ma che si profila già alcune marche già lo stanno facendo vuoi comprare un'app in più per la tua automobile pagala ma qualcuno te la deve installare non è sempre così facile poi ci sono tutte le manutenzioni la sostituzione delle batterie perché ci sa c'è già un mercato per ora molto piccolo di conversioni delle auto soprattutto le auto d'epoca io vedo dei gioielli in circolazione che vengono convertiti in elettrico in propulsione elettrica in modo da poterli utilizzare serenamente tutti i giorni per per le mostre senza generare gas di scarico per cui in un certo senso questo è un fenomeno che abbiamo visto in tante altre occasioni è giusto sollevare il problema perché ci sarà una conversione di posti di lavoro è importante quindi essere preparati al fatto che questa parte della nostra vita sta cominciando a cambiare del resto l'abbiamo fatto già in passato quando siamo passati dall'epoca pre internet a internet non abbiamo visto una levata di scudi per dire e adesso che tutti vanno sui siti di viaggi cosa facciamo per tutte le agenzie di viaggi salveremo i loro posti di lavoro in qualche maniera o quando abbiamo detto beh passiamo a energia fonti di energia più pulite nessuno ha detto beh i minatori cosa facciamo li lasciamo tutti a casa no sono stati pianificati dei processi di conversione e di riqualificazione delle persone è chiaro che è un processo difficile ma queste cose le facciamo in continuazione per tanti settori purtroppo da questo punto di vista non si può restare fermi a sperare in questo magico modo di mantenere le cose come sono sempre state per evitare di avere problemi purtroppo non funziona perché se facciamo finta di niente la temperatura globale lo vediamo sta aumentando l'inquinamento è sotto i nostri occhi e dentro i nostri nasi e quindi qualcosa bisogna fare se lo facciamo bene pianificando affrontando il problema probabilmente riusciamo a fare una conversione in dolore se invece facciamo finta di niente mettiamo la testa nella sabbia temo che ci saranno delle ripercussioni pesanti quindi cominciamo a pensarci vediamo cosa fare io non posso fare nomi ma ho parecchie persone che conosco per lavoro che sono nel settore petrolifero e hanno fiutato l'aria che tira e quindi hanno cominciato a dire io adesso comincio a investire nell'elettrico perché pian piano ci sarà una conversione di questi posti di lavoro le mie competenze serviranno ancora per qualche decennio perché ci saranno comunque macchinari apparecchi in giro per il mondo da manutenere però comincio a prepararmi anche per questo futuro prossimo ventuno bene allora abbiamo selezionato un paio di domande dal pubblico chiedono di chiederti se in un futuro non molto lontano le batterie litio verranno migliorate con altre batterie più performanti sia come ricarica sia come autonomia e quindi se diminuiranno i costi di queste belle dette auto elettriche è bella domanda in effetti adesso uno dei problemi alla diffusione dell'auto elettrica è il costo iniziale molto alto è un costo che in parte viene compensato dai costi minori di gestione e di energia io ho visto che effettivamente la mia spesa di energia è crollata io spendo un quarto rispetto a quello che spendevo in benzina quindi l'investimento si fa ma si ripaga però c'è in effetti un divario di prezzo come prezzo di listino fra l'auto elettrica e l'auto tradizionale di pari categoria è un divario che sta scendendo rapidamente già ho visto alcune previsioni di bloomberg secondo le quali entro 23 anni si arriverà grossi grosso modo al pareggio però in effetti il problema grosso è il costo della batteria già adesso in produzione quindi su vasta scala ci sono almeno tre tecnologie principali di batteria che già possiamo trovare installate nelle automobili c'è la classica litio nickel cobalto alluminio c'è la lnmc litio nickel manganese e cobalto che sono le più diffuse e sono anche le più problematiche perché il cobalto viene estratto in paesi dove la mano d'opera purtroppo spesso è minorile sfruttata quindi c'è un problema politico e anche morale molto importante e poi c'è un terzo gruppo di tipi di batteria che sono le litio ferrofosfato che si chiamano lfp queste hanno delle caratteristiche molto interessanti e promettono di avere un costo più basso e queste già vengono installate quindi stiamo parlando del presente per il futuro ci sono altre tecnologie all'orizzonte le batterie a stato solido che accennavo prima che danno delle grosse speranze di riduzione dei costi probabilmente vedremo un andamento molto simile a quello che abbiamo visto negli anni scorsi giusto per ricordare perché gli anni passano in fretta dieci anni fa una batteria costava dieci volte quello che costa oggi quindi se è una batteria costava diecimila euro dieci anni fa adesso ne costa mille e una batteria da mille ne costa 100 e quindi c'è una discesa rapidissima dei costi industriali se l'industria riesce a rispondere a questa sfida di produzione di massa e di nuove tecnologie riducendo ancora i costi e trasferisce quel risparmio ai clienti vedremo delle auto elettriche che costeranno meno ci sono alcune marche già visto adesso alcune marche europee che stanno producendo delle automobili estremamente spartane elettriche che sono finalmente abbordabili quindi non è solo un oggetto di lusso o un investimento importante di quelli che portano via alcune decine di migliaia euro aggiungo una cosa che il mercato dell'usato elettrico è estremamente interessante io ho comprato due auto elettriche usate e mi trovo bene perché se si guarda la statistica le auto elettriche hanno una vita complessiva molto lunga sono anche molto ben garantite per molti anni proprio perché i componenti sono pochi si guastano meno hanno bisogno di meno manutenzione non c'è la classica problema della testata della perdita d'olio che c'è nelle auto tradizionali per cui anche qui può valer la pena di cominciare a guardarsi in giro vedere cosa c'è nel mercato dell'usato a volte si perdono i bonus gli eco incentivi quando si prende una macchina di seconda mano però il prezzo è drasticamente più basso soprattutto nella fascia alta quindi le grosse berline elettriche crollano di prezzo dopo qualche anno perché sono oggetti un po di moda e quindi si può cogliendo l'occasione giusta portarsi a casa anche una bella macchina elettrica con una cifra ragionevole benissimo un altro amico ci chiede ma è vero che con l'auto elettrica rischi di addormentarti mentre viaggi perché troppo rilassante beh addormentarsi della colpa anche all'autopilot allora ecco allora distinguiamo fra le due cose perché le tecnologie di guida assistita come l'autopilot di tesla o i drive assist di altre di altre marche in effetti hanno un problema di attenzione perché il conducente legalmente continua a essere responsabile della condotta del veicolo ma è facile rilassarsi troppo distrarsi dire beh tanto l'automobile tiene la strada da sola tiene la distanza dal veicolo che mi sta davanti posso guardarmi in giro posso chiacchierare posso rispondere al telefono fare un sudoku e altre cose così assolutamente no il conducente deve restare sempre vigile se invece parliamo di facilità di utilizzo dell'auto elettrica allora sì perché l'auto elettrica non ha le marce non ha la frizione ha soltanto marcia avanti marcia indietro e quindi è molto più facile da guidare io lo vedo quando faccio grandi viaggi non ho più i dolori alle gambe che mi capitavano quando avevo l'auto con il cambio manuale chi fa tante code in città sa benissimo prima seconda marcia folle prima seconda marcia e così via invece con quell'auto elettrica questo non si pone è una guida quindi molto più rilassata quindi sì c'è il rischio di addormentarsi se ci si rilassa troppo io consiglio magari di prendere un buon caffè in più e di godersi il silenzio che c'è a bordo ascoltando qualcosa di bello come la musica che si ascolta bene in auto elettrica oppure chiacchierando in buona compagnia per cui non mi preoccuperei direi però di stare abbastanza attenti e vigili anche perché poi prima o poi ti devi fermare per una carica e magari anche un salto alla toilette già che ci sei quindi alla fine ti tieni sveglio ecco paolo io ti ringrazio direi che abbiamo finito con tutte le bufale riguardo la mobilità elettrica come sempre la tua capacità di rendere semplici cose che hanno anche una complessità molto elevata mi lascia basito e ti ringrazio davvero del tempo che che ci hai dedicato ecco penso che volendo ce ne sarebbero altri di argomenti di dettagli di confronti da sentire magari saranno altre occasioni e intanto ti ringrazio per tutte queste bellissime informazioni corrette grazie a voi di avermi invitato e grazie di a chi ci ha seguito per per aver dimostrato interesse per questo argomento che purtroppo uno di tanti argomenti controversi di cui capita di occuparsi in questo periodo ma è anche un argomento molto divertente appassionante se conoscete qualcuno che ha un'auto elettrica fatevi fare un giro fatevi portare in giro divertirvi a sentire a godervi il silenzio a godervi l'accelerazione la comodità e soprattutto anche con un occhio all'ambiente perché non è tutto inquinamento da automobili quello che respiriamo però l'automobile ha il suo ruolo nella qualità dell'aria che ci circonda e quindi è una buona occasione per guardarsi intorno e scoprire magari che ci sono delle possibilità alternative di mobilità senza necessariamente mortificarsi e modificare poco le proprie abitudini senza quindi stravolgerle grazie ancora e alla prossima buon lavoro